Ciao, sto utilizzando un nuovo filato, è molto grosso, è simile al ciniglia, non so se il ciniglia è più grosso, ma è molto morbido, molto facile di elaborare. E' la prima volta che l'ho utilizzato, avevo paura perché non riuscivo a fare i lavori, però è molto facile. Vediamo come va, però fino adesso non mi dà nessun problema. Ho utilizzato un uncinetto di 3.5, anche se io raccomandano uno di 6, 6, 6 e mezzo. Ma io ho utilizzato il 3 e mezzo, è molto buono.